Una terribile tragedia si è verificata poco fa su un noto lido di Schitella dove un uomo è morto per salvare la nipotina La giovane era in acqua nonostante le avverse condizioni del mare, l'uomo, 50 anni circa, spaventato dalle onde è entrato in acqua per soccorrerla ma pare sia stato colpito da un malore La vittima è stata soccorsa da una scialuppa di salvataggio, e una volta sul bagnasciuga si è accasciato al suolo Inutile i tempestivi interventi dei soccorso. Che hanno effettuato un massaggio cardiaco per salvargli la vita Ma non c'è stato nulla da fare. Pare che l'uomo abbia ingerito una grossa quantità di acqua Sul posto i carabinieri per le indagini del caso Tutto i carabinieri per i carabinieri per la rinta E' una buonEvet Grazie a tutti.